Ok ragazzi, eccoci qui, squilino le trombe finalmente E' uscito il nuovo Call of Duty, signori e signori Faremo la campagna completa Ovviamente ci metteremo a fare qualche partitino in multigiocatore Ma probabilmente quelle le faremo su Twitch Perché ragazzi, finalmente ho ottenuto la fibra E quindi faremo delle live su Twitch Se volete sapere il mio canale su Twitch Vi basta guardare la descrizione di ogni mio video Perché è segnato Per ora ci goderemo la campagna Comunque domani è sabato Questo gameplay probabilmente lo carico oggi Domani è sabato E domani alle 11 inizia la prima live ufficiale su Twitch Quindi fateci un salto Perché anche se mi metto a giocare dovrò fare The Evil Within 2 L'ho già detto nel vlog che ho pubblicato oggi Ma praticamente Vabbè sti cazzi, accetto tutto Che è sta roba? No, perché la dovevo sempre fare sta cosa? Faccio così Ok Allora, praticamente Domani farò The Evil Within 2 Zoom nazisti, figo Però faremo la modalità classica L'ho già detto nel vlog Ma lo ripeto Praticamente la modalità classica Si differenzia dal fatto che Avremo solo 7 salvataggi totali E sarà molto difficile Quindi ci vedremo domani Ma ora dedichiamoci a Call of Duty La macchina bellica di Hitler Ha scatenato il suo feroce Blitzkrieg Sull'Europa occidentale Mettendola a dura prova Nella nostra ora più buia Dobbiamo trovare la forza Per diventare il baluardo contro l'oppressione L'invasione nazista Sarà la nostra prova più dura Ma con i nostri alleati Dobbiamo affrontarla e superarla L'invasione nazista A questo giorno abbiamo impostato Un'esplirso 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 A preservare la nostra civilizzazione E areyso A creer l'immaginità Un'esplirso 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 le uomini di uomini saranno sbagliate con le violenze dell'arrivo in questa sera di grande sacrificio dovremmo prevale il 6 giugno 1944 dovresti vedere che roba fratello dobbiamo invadere una spiaggia francese di cui non so neppure il nome tutto questo per liberare la Francia dai nazisti l'attesa è stata sfiancante poi lui mi chiede l'orologio e io gli faccio che cazzo te ne fai del mio orologio? sei il capitano della cazzo di squadra di football mi sono fatto buoni amici in addestramento tutti imbarcati con me ce la facciamo sotto ma nessuno lo dà a vedere la prima settimana di addestramento odiavo Ziusman ma ora è il mio migliore amico è un piantagrane se non ci fosse una guerra sarebbe il primo a farne una in più mi servono tutte le dita se voglio scattare la foto dell'anno Stiles dice che una volta a casa diventerà un fotografo di life mi ricorda Clark Kent solo che quando toglie gli occhiali l'unica cosa che succede è che non vede più un cazzo Aiello è il veterano il classico tipo che mamma avrebbe definito zotticone rendiamolo più interessante San Michele santo patrono dei soldati è da Kasserin che mi salva il culo Ziusman tre volte in dieci secondi ed è tutto tuo non lo so adesso te la fai sotto punto su Ziusman ok ci sto non posso guardare dai il tempo quando te lo dico dove ero rimasto io e i ragazzi ci eravamo infilati in una partita a poker della squadra di football avevamo un sistema per segnalarci le carte di ogni giocatore il quarterback ci è rimasto di merda quando ho vinto tutto pronto? ecco che succede a imbrogliare un imbroglione ora ecco te sei sterato Aiello aveva affrontato molte battaglie mamma diceva non fidarsi degli ebrei non mi ha detto così stanotte a vedere a bigotto come pochi a che serve uno stupido ciongolo? a te è servito troverò di meglio un vero trofeo vedrai buona fortuna il briefing è alle diciotto è tardi lascia fare a me Daniels puoi stare tranquillo il briefing sta per iniziare che cazzo state facendo? poi c'è il sergente Pearson un vero simpaticone vi credete tanto speciali eh? i crocchi vi faranno il culo no non a noi sergente può starne certo chiudi il becco zio Osman con me visto che ho una fortuna sfacciata qualunque cosa accada stammi vicino prima la Normandia poi il Reno ce la faremo Daniels mi piacciono molto i filmati così oggi con i nostri alleati diamo inizio a un'operazione della massima importanza stabilire una testa di ponte in Normandia e respingere la dilagante invasione tedesca che terrorizza l'Europa da quattro anni noi siamo l'unica cosa che separa il mondo dalla rovina questa non è solo un'occasione di diventare degli eroi per tutta la vita se vinciamo il nostro trionfo resterà scolpito nei cuori e nelle menti di tutto il mondo per innumerevoli generazioni sto parlando di gloria signori vera gloria il colonnello Davis ha fatto un bel discorso mi ha ricordato quello di coach Johnson prima della nostra partita del ringraziamento contro Austin te la ricordi vero abbiamo perso con 42 punti di scarto il tenente Turner non perde mai di vista Pearson fa di tutto per contenerlo se non lo facesse Pearson ci salterebbe alla gola sai che tu ci creda o no Paul ho sempre voluto essere come te sarà difficile seguire le tue urme ma di certo ci proverò Maurizio disolge il casino ora o mai più ehi magari avessi qualcuno ad attendermi aspetta di arrivare a Parigi se n'è di strada ricordate non fermatevi in spiaggia dovete avanzare state bassi e ben distanziati fate come vi è stato insegnato e ve la caverete sarà un onore guidarvi in battaglia sempre e comunque ok facciamogliela vedere hanno già bombardato le spiagge vero? hai paura soldato? no signore invece dovresti Daniel sei da accendere certo! l'ultima sigara è questa qua che fuori scendi oh Gesù oh Gesù occhio! 500 metri dobbiamo annullare tutto no! la missione continua portaci dentro siamo fuori posizione non vedo i segnali hai sentito il tenente? avanti tutta! attaccano! caglia colggetemi Polca puttana che cosa si? 20 secondi stessa piano andate alla barriera Robinson 6, vangalava il filo spinato, subito, tutti pronti, ci siamo, giù la rampa, qui siamo scoperti, è un ordine cazzo, giù la rampa, no, 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 no prendi il bungalore vai alla barriera dobbiamo aprire un barco fino ai bucchi sei addestrato per questo prendi quel siluro puoi farcela signor si davvero è una figata però è fatto bene è troppo figo è fatto benissimo dieci più che cavolo è arrivato un po bene vado 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 ci siamo quasi via via ah la linea con il cerchio fuoco le polveri forza 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 ma questo è nevico cazzi di merda infami vabbè certo il momento mi sempre scarico io se no non mi faccio riconoscere che arma ho secondaria? no non la voglio questa voglio ehm no no la grazie prendiamo ancora ora dai ma ho pochissima vita o mi sbaglio solo al riparo che dovrei fare? c'è un medico? figo non si ricarica la vita hai una brutta ferita tieni usa questo oh oh grazie no è figata adoro 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 go 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 ci siamo un bel confetto c'è nessuno? libero? libero più o meno quelle mitragliatrici ci impediscono di avanzare ok ok dovremmo avere più in copertura altrimenti sono sbagato dovremmo avere più in copertura che decisino succede? si è un cane si è un cane si è un cane polverizzate saliamo lassù oh che figata non so che altro tiro è troppo figo no sono estasiato tutto ciò lo attendo da mille anni si è un cane in decennio si è un cane ma la gronata down lo paralizzato fitto questi colpi dai ogni altra americana americana è ucciso oh gesù mi dico qua che qui qui ah mi dai kit l'infame grande c'è troppo silenzio mi sbaglio pizzo di merda primo neutralizzato forza tutti fuori ok per ora va bene così ok t'ho premuto ok qualcuno mi da un thompson giusto tutto ok grazie dobbiamo arrivare ai bunker che figa azioni eroi che non ho letto gli ho salvato il culo però chissà beh a minuti ammazzato amici vieni Daniel Daniel lancio il fumogeno va che fumogeno vabbè fumogeno vabbè 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 sto proprio giusto per sparare tanti vabbè 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 io vabbè vabbè non mi serve figlio la prossima ondata non passerà Sì, io ho finito totalmente i colpi, eh Ma di brutto proprio, eh Ma c'è qualcuno che mi da proiettili? Sono inutili? Sono inutili, ok Mi serve una mano Guarda, sta coccendo tutti Oh, c'è Vado Eh, ora tocca a me Eh, 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 eh Li cuoscio io, mo Pezzi di merda Guarda, scarico anche questo Ma non c'è, io non ci credo Magari più avanti, ma Però adesso non è una merda per quanto riguarda le munizioni Sto veramente al verde Oh, Gesù Mori Prendo la sua Non ho scelta Non ho scelta Da qui arriva, no? Non ho ben capito Non ho capito Ok, io esco Non lo so Di merda È pesantino Sto veramente Andati Sono un po' morti Ma non Ho ancora beccato un Un Thompson Vado, 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 vado io Ma ho ucciso anche l'amico Ma sono un idiota Mi serve aiuto Presa Grazie Ora sto perso Ho salvato Gesù Guarda, è tua Gia Oh, Gesù Oh, Gesù Stiamo passi Ma sono sbagliando con me È a terra Daniels, tu e Zuzman ripulite l'ultimo bunker Raduniamoci in cima all'altura E cercate di non farvi ammazzare Ok Da questa parte Dobbiamo un kit Ah, c'ho già il kit Ho un kit medico Davvero Qui Ok, ne ho quattro addirittura Oh Fino ad ora è fantastico Ok, Zuzman, ancora uno Possiamo farcela Una cosa delle situazioni eroiche Mi piace un casino Gesù Dove cacchio mi spara? Dall'alto Nemici in arrivo da sud-ovest Avanzano da ovest Che minchia è? Ah, sto sopra Dritto in testa È a terra Ok Ci siamo Oh, Gesù Muori imbecile Ammazzalo 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 Zuzman Ah, mi piace la tua scena Di merda A ore 12 Vieni amico Non ce la faccio Merda Tirami fuori da qui Ok Ti tirerò fuori Resisti Raggiungiamo quella stazione medica Alla tua sinistra Where is the sinistra? Andiamo Ma sono ferito Abbastanza Dobbiamo metterci al riparo Troppi Sì, merda Via libera Andiamo Via libera un cazzo Non è vero che sono ferito Lo usa Grande Conceli tutti Sto per tempo Davvi a resistere Tieni giù la testa Eh, ballo Lei è ammazzato Non finiscono mai Attenzione Uh E' a terra Andiamo Andiamo Zuzmino Zussamino Che ironico però Lui che si mette a giocare sotto col coltello Ti prendo io Si è presa una bella pugnalata Cozzo Possiamo scendere qui Ti prendo io Che merda Dai, dai, dai Dai, dai Cazzo, perdo sangue Tu continua a premere Ancora poco Qua tu, presto, presto Presto Che barna Ah Sto vedendo l'ansia Ok, tieni tu Medico Mi serve morfina Devi resistere A Parigi delle ragazze ci aspettano Davvero? Contaci Mi fai Mi fai vedere di nuovo la tua ragazza E il corno, cielo Devo... Eci sul serio Pazienza Non vedo un cazzo Devo... Devo... Devo solo riposare Un po' No, no, no Devi restare sveglio Ehi! Daniels! Sono qui Aiutami Qualcuno chiami subito Un medico Ci penso io Via! Lo curerà lui Ho bisogno di te, Daniels Ascoltate C'è un cannone GPF Alla fattoria lungo la strada Sta martellando la spiaggia Sbrighiamoci Torneremo a prenderti Controlla munizioni e granate Sentito? Tutti in strada Subito Arrivo! Prendi delle munizioni, Daniels Le posso chiedere Signore, mi dia dei colpi Occhio, Daniels È fantastica Dobbiamo distruggere quel cannone L'ho sempre desiderata Questa cosa di poter chiedere munizioni ai compagni Quando stai a secco Cioè, chi stava? Svelti O alla spiaggia resterà solo sabbia Ops Occhio è andato Andato, andato Spallate strozzi Tutto la mitragliatrice Crocchino arrivo La minuita Non davano a riprendersi il cannone Non davano a riprendersi il cannone Il fornitrice Il venile A riparo Fuoco sulla mitragliatrice Ecco che arrivano Fuoco Voglio qualcuna alla mitragliatrice! Dio! Fingamano tutti sti strozzi! Sì, sì, sono munizioni! Non mi ha fatto niente! Ho troppi, però! Oddio, dai, 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 dai! Si fa la macchina? Magari faccio più danni, aspetta, eh! Cura armi! Ok, caricare, caricare, arca merda! E infilatele in culo le munizioni! Adesso la lungo, peggio! No, vi giuro, sono troppi, sono troppi! Era ora! Guardate com'è, tappalo! Sistemate! Prendi delle munizioni, Daniels! Ok, ragazzi! Li abbiamo donciati per bene! Alleluia! Se me ne dice prendere le munizioni, devi uscire! Distruggi il cannone! Riccevuti! Lo spacco io! Daniels, stermite! Come in Call of Duty 2! Fuoco alle polveri! Munizioni da darti, soldato! Signore, mi dia dei colpi! Ottimo lavoro, Daniels! Soldati, raggiungetemi al punto di incontro! Andiamo! Comunque per gli stronzi che dicono, eh, ma... Il Garand non è vero che si poteva ricaricare... Pearson! Rapporto sulle perdite! È una strage davvero! È stata una strage! La spiaggia è nostra! L'abbiamo presa a caro prezzo! Perché la gente diceva che il Garand non si poteva ricaricare prima di terminare il caricatore, invece non è vero, si può ricaricare, è solo che è un po' un casino! Daniels! Wow, pensavo di averle viste tutte! Si riprenderà? Sì! L'hanno rattoppato per bene! Dovevo starmene sulla barca! Oh, adesso ci dice! Ehi! Quello che hai fatto... Sono in debito! Io dico che siamo pari! Andremo fino in fondo! Fino alla fine? Fino alla fine! La spiaggia è nostra! Ci accamperemo alla seconda fila di arbusti dopo il crinale! Benvenuto nella prima fanteria! Sei lontano dal Texas, campagnolo! Tch! Non ci si prepara a questo! Ma tu hai sangue freddo! Signore, io... Te la caverai! Grazie! Signor sì! Certamente! Non so chi ha pensato di riconquistare l'Europa in questo modo! Una cosa è certa, però... Oggi non era sulla spiaggia con noi! Ho trovato 0 su 3 ricordi! Ho eseguito 2 su 2 azioni eroiche! Già mi va bene! Ragazzi, io spezzo qua le split! Ci vediamo alla prossima parte! Ciao a tutti! Ciao a tutti!